Salve a tutti, salve a tutti perché credo che sia importante diffondere, assumendoci tutte le responsabilità del caso, in quel che sto per dire, sia importante diffondere le notizie che arrivano in questo momento da Augusta, dai nostri confini, dai confini della nostra nazione, dai confini di Italia. Una premessa, prima che qualche sinistrato ignorante che magari fa fatica a fare uno più uno, perché ci sono anche questi problemi, l'abbiamo già detto, ma il nome qui Meloni è invertito per un problema di chi usa la telecamera, evidentemente in modalità selfie. Abbiamo provato a sistemarlo, ma non ci siamo riusciti, forse noi non siamo intelligentoni come i compagni. Però, al di là di questo, è una premessa doverosa, in questo preciso istante stanno sbarcando 400 migranti al porto di Augusta, portati dalla nave Sea-Watch. La conoscete? La nave Sea-Watch. Una di quelle organizzazioni non governative, i cui esponenti, tipo Luca Casarini, è stato pochi giorni fa destinatario di un avviso di garanzia, semplicemente perché, secondo la procura di Ragusa, avrebbe ricevuto la sua organizzazione qualche migliaio di euro, si parla di 3.000-4.000 euro a migrante, per averli trasbordati da una nave mercantile alla sua bellissima nave, per poi portarla in Italia. Ma loro non lo fanno per soldi, eh? No, non lo fanno per soldi. Se comprovate queste accuse, assolutamente risibili, solo traffico di esseri umani, ma loro sono insinistrati, quelli che evidentemente lo fanno sempre per amore degli altri, beh, insomma, sarebbero evidentemente accusi importanti. Però, vediamo, confidiamo che sappiano dimostrare la loro estraneità. Ma al di là di questo, in questo preciso istante, mentre noi stiamo parlando, ad Augusta, al porto di Augusta, stanno sbarcando 400 migranti dalla nave Sea-Watch. L'avete sentito da qualche parte? Zero totale. Qualche organo di informazione? Zero. Qualche TG, qualche giornalone, qualcuno del mainstream? Zero totale. Non ne parla più nessuno. E allora alcuni dati. Al di là di questi 400 migranti che stanno arrivando e verranno immediatamente portati su delle navi quarantena per verificare le loro condizioni di salute, visto che evidentemente il Covid gira anche dai porti da cui loro partono, o dalle zone da cui loro partono, abbiamo dall'inizio dell'anno 5.300 e passa arrivi. Alcuni dati, per rendercene conto. Quando c'erano i decreti di sicurezza e un ministro interno di centro-destra, avevamo 200 sbarchi. 2019, anno 2019. Anno 2020, ministro Lamorgese, facciamo nomi con i nomi Lamorgese, 2020 sbarchi, 2.300 decreti di sicurezza, ministro Lamorgese. Oggi, 2021, ministro Lamorgese, decreti Lamorgese, cioè decreti pro-migranti, perché sono pro-migranti, sbarchi a oggi sono 5.300 più i 400 che stanno appena arrivando. Nessuno ne parla. Nessuno ne parla perché gli italiani non devono sapere che la penetrazione e la permeabilità dei nostri confini è sempre più evidente. Anzi, lo sarà ancora di più, perché ieri, in Commissione Esteri, è stata ulteriormente definita una norma secondo cui il blocco navale, vi ricordate quello che dicevano tutti? Ah, non si può fare! Fratelli d'Italia inventa le cose, nessuno può immaginare cosa sia il blocco navale, è una sciocchezza irrealizzabile, però da ieri il blocco navale, secondo la relatrice Laura Boldrini di questo emendamento, secondo cui a livello internazionale diventa un reato, appunto, penale internazionale e l'Italia può essere deferita alla Corte internazionale per il blocco navale. Ma non dicevate che non esisteva, che non si poteva fare? E allora, perché adesso siete tutti preoccupati? E l'unica forza politica che ha detto che invece il blocco navale non deve essere un reato è Fratelli d'Italia, e questo lo diciamo perché crediamo che sia giusto anche assumerci noi le nostre responsabilità. Secondo noi il blocco navale non può essere un reato perché la difesa dei confini non può essere un reato. La difesa dei confini è un dovere, un dovere di qualsiasi patriota. Ma mentre parliamo stanno arrivando i altri 400 migranti al porto di Augusto. E allora vorrei anche qua, prima che tutti dicano xenofobi, rassisti, eccetera, eccetera. Mettiamo in chiaro le cose. A me che 400 disperati arrivano in Italia non crea una preoccupazione, se non nella misura in cui, non so come possiamo noi oggi in Italia, dare accoglienza e solidarietà, se non quella doverosa che si dà a qualsiasi persona, vista la situazione devastante dell'economia. Iniziamo a mettere in fila le cose. La responsabilità non è di questi 400 disperati. La responsabilità è della sinistra italiana, di chi oggi ha creato le condizioni perché questa strisciante invasione prosegue. Prosegue facendo leva sulla disperazione di questa gente che arriva in Italia per foraggiare, lo dico assumendomi la responsabilità anche di questo, un sistema di accoglienza in cui evidentemente gli unici beneficiari sono i soliti. I soliti su cui poi ogni tanto scatta qualche inchiesta, scatta qualche arresto, scatta qualche informativa, ma che continuano ad alimentare un traffico di migranti, non per scopi di solidarietà, non per scopi di assistenza, non per scopi di umanitari, ma solo per il vile danaro. Ed è questo ciò che noi imputiamo alla sinistra, perché la sinistra ha un problema col concetto di identità, che sia identità nazionale, identità religiosa, identità familiare, identità culturale, loro hanno un problema con l'identità e vogliono nascondere la loro assenza di identità negando l'identità di tutte. Per noi l'identità nazionale e la difesa dei confini è essenziale. E allora la richiesta che vi faccio è fate sapere che l'invasione che la sinistra sta alimentando nei confronti della nostra nazione non si è fermata. Anzi, rispetto allo scorso anno, grazie alle modifiche volute dal ministro Lamorgese, quella che blocca gli italiani in casa, ma che fa tenere i porti aperti, è più che raddoppiata rispetto all'anno scorso. Più che raddoppiata. E di ciò nessuno parla. Non ne parla nessuno, perché il mainstream, i giornaloni, non vogliono che si sappia. L'unico strumento che noi abbiamo di diffusione di queste notizie è questo. E io vi chiedo, vi imploro, facciamolo sapere, perché il problema non solo non è risolto, ma rispetto all'anno scorso è più che raddoppiato nei numeri. E io mi chiedo come si possa pensare che una nazione che magari neppure trattiene i propri giovani migliori, che vanno a cercare migliore fortuna all'estero, visto la situazione in cui noi ci troviamo ormai da tempo, possa pensare di risolvere i propri problemi importando povertà ed esportando ricchezza. Questa è la ricetta della sinistra italiana, a cui va attribuita la responsabilità e la colpa di tutto ciò. Non a quei disperati che partono e che arrivano. Non a quelle persone che cercano magari anche di mettersi in salvo da situazioni di guerra o di carestia o altro. La responsabilità è della sinistra che li attira, grazie anche all'ONG che sono dei propri pull factor, dei fattori d'attrazione, mediante i quali fanno arrivare queste persone in Italia, magari scatta qualche inchiesta, e noi confidiamo che la magistratura faccia il proprio corso. Ma lo farà nei propri tempi? Noi vi chiediamo intanto di far sapere che anche in questo momento altri 400 migranti stanno sbarcando nel silenzio totale. Questo è inaccettabile.